Ti è stato insegnato chi si accontenta gode, ma tu quando ti accontenti e ti trovi in una certa situazione dove non ti senti a tuo agio, dove senti che ti manca qualcosa, dove senti che vuoi di più, in realtà non stai godendo. Magari senti un vuoto interiore e non ti senti felice. E sai che tutto questo non va bene, ma è come se ti adattassi a ciò che ti è stato insegnato. Insomma te la racconti e cerchi magari delle scuse per giustificare il fatto che continui a stare nella situazione che non ti fa stare bene. Oppure cerchi dei piccoli miglioramenti che potrebbero essere o cercherò di guadagnare di più, oppure cercherò di fare qualche attività sportiva che mi piace, inserirò un hobby, uscirò di più la sera. Il problema è che tutto questo, come ben sai, non ti dà la soluzione. Oppure potresti cercare dei piaceri a breve termine, e questi sono molto pericolosi perché tra questi ci sono anche le dipendenze. Se ancora non mi conosci, mi chiamo Patrizia Setteeducati e aiuto le persone che sentono di essere di più, ma si sentono incastrate in una vita che non gli appartiene, a seguire il percorso della propria anima in modo che possano creare la vita che hanno sempre sognato, una vita piena di significato. E proprio per aiutare le persone in questo, ho creato il percorso intensivo avanzato vita straordinaria, dove gli allievi hanno la possibilità di mettersi in gioco e di creare la vita che desiderano. Come ti stavo dicendo, non sarà un piccolo miglioramento a cambiare le cose, non sarà un giocattolo a cambiare le cose, non sarà un piacere a breve termine a farti sentire bene, e nemmeno una piccola modifica a uno scaccia pensieri. Quando stai soffrendo, che cosa sta succedendo in realtà? È la tua anima che ti sta prendendo per le orecchie, e lo fa per il tuo bene, perché ti sta chiamando, ti sta cercando di far notare che la tua vita non va bene così, che non sei felice, che non stai bene in quella situazione, che c'è molto di più per te. Perché non ascoltarla? Lo fa proprio per farti un dono, perché tu ti accorga che qualcosa non va, e faccia il cambiamento necessario per cambiare le cose, per cambiare il tuo stato, per sentirti bene, per realizzarti, per essere chi sei davvero, chi è la possibilità di essere in questa vita. Quindi non cercare un ripiego, non cercare di volare basso, non cercare di accontentarti, anche se questo ti è stato insegnato. Questo non vuol dire non rendere onore ai tuoi genitori. Questo vuol dire semplicemente prendere in mano la tua vita e farne il capolavoro che meriti, perché la tua anima non si accontenta, non si accontenterà mai di qualcosa che assomiglia a una situazione accettabile. La tua anima vuole il massimo per te, vuole il meglio, vuole che tu ti realizzi al massimo livello, vuole il tuo bene supremo. solo ascoltandola troverai pace, e non solo pace, ma gioia, felicità, realizzazione, e sentirai di aver trovato il tuo posto nel mondo. Ci sono solo tre modi di reagire quando la tua anima chiama. Il primo modo è resistere. Questo crea ovviamente sofferenza, perché la resistenza di per sé crea sofferenza. È un po' come combattere contro i mulini a vento, e combattere con la tua anima non è una cosa positiva, anche perché è come combattere con te stesso, crei un conflitto interiore, la tua anima non è un'entità esterna a te. Tu sei parte di questa entità spirituale che sta cercando di guidarti verso ciò che è bene per te. Quindi se la tua anima cerca di aiutarti, che cosa stai facendo? Stai appunto lottando contro i mulini a vento senza la possibilità di vincere, e senza soprattutto la possibilità di ottenere i risultati che desideri. Anche perché se otterrai i risultati che desideri, e che non sono quelli che la tua anima ti sta suggerendo, non ti sentirai bene, non ti sentirai soddisfatto, e sentirai di aver sprecato un sacco di tempo. Se invece non li otterrai, avrai lottato contro la tua anima che cercava di favorirti, di farti fluire nella vita, di farti prendere consapevolezza delle tue infinite possibilità, e quindi hai sprecato energie ed occasioni. Il secondo modo di reagire è far finta di niente. Chi fa finta di niente in genere cerca delle distrazioni, cerca degli anestetici che non gli facciano sentire il dolore, appunto giocattoli, distrazioni, piacere a breve termine, ma il disagio non se ne va. Il disagio è sempre lì che bussa la porta. Anzi, molto spesso queste persone si chiedono, ma come mai non sto bene? In realtà la mia vita va bene, ho tutto quello che si può desiderare. Forse hai tutto quello che ti è stato insegnato a desiderare, ma non hai quello che serve a te per sentirti bene e realizzato. La terza modalità per reagire è ascoltarla. E questo ti permette di fluire verso il tuo bene supremo, verso la tua realizzazione, verso la tua felicità, verso il tuo scopo, verso ciò che è bene per te. E tieni conto che ciò che è bene per te tu non lo conosci, ma la tua anima sì, e sta cercando di portarti lì. Quindi seguirla ti permetterà di vivere con maggiore facilità, sentendoti meglio. Questo ti porterà a migliorare incredibilmente la tua vita e a viverla in modo più leggero. Oltre che sentirti molto più felice e realizzato. Il problema qual è? Beh, c'è un problema. È la tua paura. Perché nel momento in cui non fai ciò che ti è stato insegnato, non fai ciò che hai fatto per tutta la vita o che hanno fatto le persone attorno a te, entri nello stato di paura, di uscire dalla tua zona di comfort, di cambiare le abitudini, di fare qualcosa che ti mette in certezza, di non sapere come andranno le cose, di perdere il controllo della tua vita. Molte persone hanno paura di sbagliare. Oppure temono il giudizio degli altri. Temono di non sentirsi amati, apprezzati, compresi, se faranno qualcosa di diverso. E temono anche di sentirsi diversi e quindi respinti. Altre persone temono di non attenere ciò che vogliono e che pensano possa andare a soddisfare quei bisogni che sono stati creati dalle ferite del passato. Il problema è che soddisfare questi bisogni può essere qualcosa che ti porta completamente fuori strada, non attenuerà il tuo dolore, potrà solo fare da un estetico momentaneo. La cosa molto più semplice è andare a lavorare su queste ferite. Tutte queste paure che sono quelle che tu metti davanti alla tua realizzazione, al tuo cambiamento, a ciò che la tua anima ti suggerisce, si possono superare e si possono superare facilmente. La prima cosa importante da fare qual è? Beh, intanto è fare una scelta. È una scelta veramente determinante. Tra fare ciò che è semplice, facile, comodo e accontentarti quindi, oppure fare ciò che è utile e necessario per realizzarti per creare la vita straordinaria che meriti. Fatta questa scelta tutto diventa molto più facile, soprattutto se sceglierai la seconda opzione. Quando sei consapevole che la vita è al di fuori della zona di comfort, che devi attraversare la paura di cambiare, di perdere il controllo, di venire giudicato e che è necessario fare ciò che serve e non ciò che è facile, così come non è neanche pensabile che le cose possano cambiare per magia. E ricordarti anche che sei tu a creare la tua vita, che sei responsabile dei tuoi risultati. Tutto questo ti rende consapevole e quando sei consapevole le cose diventano più semplici. Può sembrare difficile, ma tutto questo è possibile. Te lo dico perché è una cosa che i miei allievi del percorso intensivo avanzato fanno in continuazione. Puoi trovare tante testimonianze su YouTube, sui miei social e ce ne saranno altre in arrivo, perché man mano che hanno dei risultati che possono ispirare le persone, io cerco di portarli a conoscenza, perché tutti possono vedere che le cose possono veramente cambiare. E lo stanno facendo delle persone come te, lo stanno facendo delle persone che non pensavano fosse possibile, lo stanno facendo delle persone che sentivano lo stesso disagio che forse stai sentendo tu. Eppure anche se avevano paura stanno cambiando le cose. Ti potrei parlare di tantissimi di loro, ti potrei parlare di Marco, di Paola, di tre Alessandre, ti potrei parlare di Linda, ti potrei parlare di tantissimi di loro. Ciascuno di loro sta facendo un passo importante nella sua crescita e come lo fanno loro lo puoi fare anche tu. Ti basta scegliere se accontentarti oppure se darti la possibilità di creare la vita che vuoi e di fare quindi ciò che è necessario. Cosa stanno facendo gli allievi del percorso intensivo avanzato? Lavorano su di sé, stanno lavorando sulla consapevolezza, sulla paura, su tutte quelle irresistenze, su ciò che gli è stato insegnato che magari li blocca, su tutti non posso, inondevo. Stanno lavorando per liberarsi, per creare la vita che hanno sempre sognato, che desiderano, la miglior vita che possono vivere. Non è facile, ma è possibile. E loro hanno scelto di farlo. E tu, alla luce di ciò che hai scoperto, cosa scegli?